a meno che c'è qualcosa che mi sfugge perché davvero non capisco perché è impossibile punto e basta impossibile sto livello è impossibile e cavolo è caduto pure il microfono ok forse va meglio no no non è vero dai 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 no c'era quasi devo fare fortezza fungente però mi rendo conto che ho già una vita quindi quindi iniziamo let's play con recuperare vite non c'è modo migliore per riprendere la parte taglio quindi grazie danno ah c'è una porta c'è una porta vediamo dove porta c'è una porta vediamo dove porta va bene vado ad uccidermi questo sicuramente l'ha modificato per via della parte precedente grande dani posso andare sotto l'acqua evitare il pallottolo bill senza dover sclerare però ovviamente sono morto ugualmente perché sono io non so sembra che lo stia facendo apposta per aumentare il numero di genius time ma fidatevi non lo sto facendo apposta e ho cavolo stavo per cadere nella lava io io provo speriamo che non sia niente di trolloso e che non posso che possa tornare indietro nel caso cavolo no mentre come giugno mi sono dimenticato di andare in basso per il pallotto la bilba forse ce la faccio ce la faccio comunque dai dai luigi dai luigi ti prego dai luigi no forse ce la faccio comunque però vabbè si vabbè esattamente come mi succede in mario kart lancio i gusci verdi ovviamente cosa succede mi devono colpire me invece degli altri penso penso dovrò semplicemente saltargli sopra ragazzi mi risparmio dall'usare il safe ma che cavolo no che cavolo ma che genio cavolo entra luigi entra luigi certo che a te piace proprio morire si non so come sclerare per la cavolata che ho appena fatto ma non ci posso credere l'ho fatto di nuovo se non capite perché ho una cavolata è semplicemente perché sto il guscio mi serve per colpire sto blocco secondario perfetto ma che cavolo mi serviva quel guscio sta parte si chiama si chiama la maledizione dei gusci ok cercando di non fare lo stesso fail di prima che cavolo sta succedendo calma calma dove cavolo è finito il guscio ah ok è lì sopra niente niente è tutto a posto vieni qui è meglio c'è però meno male va ma stai scherzando è scomparso ragazzi è scomparso ma sto gioco lo fa apposta senza parole senza parole senza parole stavolta faccio senza io che magari sono più comodo perfetto che cavolo no le ali le può prendere solo Yoshi muoviti Yoshi no ma che cavolo dove cavolo sono finite no ragazzi dai non ci posso credere cioè mi viene da piangere ma non è possibile che un gioco mi possa trovare in sto modo ma non è possibile forse perché l'ho fatto 3.000 volte e ancora non ci sono riuscito concentrati preso preso prima che lo mangio ma no 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 dai non ci credo dai ragazzi non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere no non è possibile non è possibile ma non è possibile una cosa del genere L'aspettate un attimo No, 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 aspettate un attimo Dai, lo so che puoi passare Luigi Lo so che puoi passare Dai Luigi, lo so che passi Dai 1-0 Tostiche Ti sta bene Stavolta ti ho trollato io Mi sa che è col cavolo Mi sa che è col cavolo che me l'ho trollato io Vediamo dove cavolo è Vado a nascondermi in un fossato E non uscirò mai più Ok C'è, ci sarà la chiave qui Da qualche parte Io uso il save state perché mi son rotto Ok Da notare la musica Che è un remix della Luigi's Mansion Anche se mi sembra Cavolo una zanzara Anche se mi sembrava Ovvio che ci sarebbe stata Prova a andare di qua Che cavolo Perché Perché son morto Ecco Avete sentito il microfono che è caduto No No Dall'inizio del livello Ed è caduto di nuovo L'altro è il fatto che mi dà fastidio Che cadendo il microfono Dà una botta al computer Che è nuovo Quindi Si spacca subito Bene Bene Ragazzi indovinate Ma non c'è nemmeno bisogno che lo dica Non mi ricordo più la strada Ah non ho notatura Oh già mi sono dimenticato di dirvi che siamo tornati Ah ok mi ha fatto tornare indietro ma siccome ho lo switch Vabbè andiamo avanti Ho visto che c'era qualcosa qui C'era una porta Credo sia una porta Sì è una porta Che mi riporti indietro Ti pareva A meno che ci sia già un tubo che mi riporti indietro C'è una porta Scommetto control Sì Vabbè almeno mi ha già riportato indietro Allora Certamente sto livello non è necessario per La parte principale E per Come si dice Ma perché hai preso quel Cavolo di fiore Eh grande 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 Oh ragazzi Sto punto io non l'avevo notato Però Praticamente sono tornato proprio all'inizio Non avevo notato che qui dietro ci fosse qualcosa No mi sa che questo è l'inizio No mi sono sbagliato Ah cavolo ragazzi io non ho trovato niente Oh cavolo no non dimmi che ho usato il safe stance Proprio nel punto peggiore in cui dove Ma dai ma che grazia di giugno sono Ho fatto il safe stance Proprio nel punto in cui stavo per morire Ma Dai ma che cavolo di scemo sono Ma si può essere più imbecilli ad usare un safe stance In un punto del genere Ora non posso No ma dai Devo rifare tutto livello E come al solito Mi sono dimenticato di prendere la cappa Ma devo sclerare di nuovo coi bui No qui non c'è niente Non c'è niente Ma questo no Ma dai ma era una porta Non l'avevo notata Ma non è ancora finito il livello Quanto cavolo è lungo Io non ho più tempo Muoviti Perciò un tubo Ok Veritani Io Io in queste situazioni Non so come reagire Non so Se Venire a casa tua Ad ammazzarti Non so se cercare di sopportare tutto quanto Andare Avanti col gioco O non so se Uccidere la prima persona Che mi capita davanti Andiamo avanti con l'idello Ok Ok Basta Chiuso Comunque saltiamo qui sopra Benissimo Direi che sia per forza la strada No Dicevo che Direi che sarà la strada giusta Questa quella Non ci sono altre strade No perché ho aperto quel fiore Ecco perché l'ho fatto almeno Ecco perfetto Ho perso la kappa Mi ricordo che mi serviva più avanti Fantastico Non posso fare il salto a parete Muori Anzi Safe state Ora basta fare la Cretinata di Prendere quel diamine di Blocco e vai Ok Ma stai scherzando Dai ma Non Non Che è indescrivibile Quello che è appena successo E dire Stai scherzando E dire poco Ma zero Non c'è niente Ma dai E mi serve il salto a parete A meno che Prendendo un pallottolo bill riesca No col cavolo Ecco Perfetto Perfetto Che cavolo vuoi te Ah bene Ho perso pure la kappa Che doveva scendere Dai manca solo Che perda pure il fungo Così addio Salta parete Speriamo Speriamo non mi serva più Il salto a parete Ora Ok Questo qui era un tubo Meno male che c'erano le tre Basta Me ne vado Quindi lo switch deve essere sopra Magari anche quello sarà invisibile Però deve essere sopra Ecco Intendo qui Ah no Non ho la kappa Ma possibile che io Da Completo scemo Perché è l'unico modo Per definirmi Ma è possibile che lo scopra solo adesso Che posso salire su queste cose Anche se non capisco perché Prima Ce l'avevo provato Ma non ne era salito Forse perché Sapete cosa avevo fatto Avevo saltato E avevo cercato di salire Avevo visto che non si era grappato Allora ho pensato che non si potesse salire Ora Nella disperazione scopro che si può salire Allora Prendilo Lancialo Bene Ora Safety Troll Sicuro Vediamo che c'è qui sotto Ok mi ha tolto Il fiore che avevo Grazie Ok Stessa storia Vediamo che c'è La mia morte Non posso essere trollato Nel senso che secondo me Anche qui ci saranno cubi verdi No Che provagine Non ci credo Questa è tipo una delle poche provagili Che ho fatto in tutto il let's play Non so come ho fatto salvarmi Secondo me L'uscita era Il primo tubo che avevo trovato No Ma che cavolo Ma come son caduto Ma come son caduto E' un po' senza senso sto livello Vabbè effettivamente In questo modo Nel senso il nome lago tranquillo Penso sia per quello che si chiami così Perché appunto è tranquillo Va bene Ecco appunto Col cavolo che sarà Il sogno Della scorsa parte E vedete quelle 31 vites Commento che le perderò tutte Vediamo per quanto manterrò la calma Ok Stavolta mi sa Ecco Cioè Volo troppo in basso Stavolta Volo troppo in alto Calma Calma No Ma non è che posso entrare No no È un tubo giallo Non entrerò mai In un tubo giallo Io C'è per cazzi NTSC Allora è possibile Non ci credo Ok Dimmi che Passa ad andare avanti Comunque No Sì Vai Luigi Vai Luigi Vai Luigi Che Cheater is the way Poi qua il tubo Mezzo giallo Mezzo Mezzo Viola Proprio Mezzo troll Vabbè Vabbè Sì volevo fare una battuta pessima ma non mi è venuta Era Un sospiro Leggermente forte Quello Scritto E' questo il fatto che mi fa incazzare Che non posso volere trappi in alto Lì Cioè devo abbassarmi Poi devo alzarmi Ad una velocità Cioè E' impossibile Poi te basta Non rompere Senti solo perché Ci ho dedicato l'inizio del video Non è che adesso mi devi rompere tutto il tempo Ecco Fantastico Fantastico Dunque Come sapete Ho smesso di fare PBR Essenzialmente Fantastico Ho smesso di fare PBR Essenzialmente A settembre 2012 Proprio Le lotti in singolo Nel battle Non mi piacciono per niente Sono Troppo mind game Sono Troppo longeve No Oggi ce l'ho fatta ragazzi Cavolo No Ce l'avevo fatta E vi dicevo Ragazzi forse Ce la faccio Calma Calma No Ce l'avevo fatta No Oh ragazzi Sto andando particolarmente lento Direi che Cavolo Non so Che l'avevo fatta Ad andare così lento Comunque era un vantaggio Se andavo così lento Vediamo Ok Sono un genio Sono un genio In questo modo Non do Ok Cancellate Gli ultimi 20 secondi Delle Che cacca Volate Che stavo dicendo Perché mi permette Di salire più velocemente Basta Basta non andare addosso i tubi E ce la faremo forse Finalmente Tutte quelle belle vite Che avevo guadagnato Le ho perse Vabbè Adesso ho fatto il cheater Perché ho usato Le stesse Non volevo perderle Cavolo Sto andando troppo veloce Calma Non dire che ce la stai facendo Non dirlo Non dirlo Devo tenere la bocca Chiusa Ok bene Ce la sto facendo Non devo dirlo Non devo dirlo Stai zitto Ecco Ecco Non tenere la mia Diamine di bocca chiusa Adesso Vediamo se riesco a Vabbè ecco Basta passarlo direttamente E quello cos'era E quello cos'era E quello cos'era Come nella scorsa parte Ah No Non dirmi che c'è un'altra parte Di Flappy Toast Ehi No che cavolo vuol dire Sono uno scemo Ecco cosa voglio dire Sapete perché? Perché dovevo prendere un fungo Prenderlo E poi attivare l'altro blocco Perché l'altro blocco mi avrebbe dato una cappa Invece adesso Ora son f*****o Non ho reato Cavolo di livello Ma che cavolo è sta roba? Ok son morto vero? Sì Resta qui sopra Passa qui sopra Ecco Non funziona Vediamo se Se posso sopravvivere Allora Devo ragionare Intanto che faccio così Posso sopravvivere In qualche modo Vediamo Intanto te Luigi Continua a fare così Dunque Secondo me Sì posso sopravvivere Se passo qui sotto No Va bene Luigi Fai così Ok Ricominciamo Oh Ok Secondo me Mi sospettisci Quello che ci puoi No Non ci credo Non ci credo Ho fatto una cavoletta E l'ho scoperto per Casa qualcosa Entra La musica di lavandogna Cavolo Come si fa A buttare via Uno switch Così Prima ho buttato Via lo switch Adesso ho buttato Via me stesso Insieme Allo switch Tra l'altro Credi di portarci Dietro due switch C'è Così Sono un genio Sono un genio Ora come cavolo farò Già che ci sono Stebole di sapone Che non so come cavolo Evitarle Che non so come cavolo Che non so come cavolo Grazie a tutti.